Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi entremo al Fertaniso e poi vedrete i negozi. Sì, andremo da Clast, dove ci sarò? Anche io! Che è la mia amica Giulia e non voglio dire il cognome perché se no... Sì, infatti non ci vedremo, non mi vedrete mai. Vero, per privacy. Sì, infatti oggi è il giorno di Halloween e noi ci siamo vestiti. Vero, fammi il... Non fammi vedere la faccia, la faccia, non la faccio. Fai qui... No, mi fai vedere? Fammi vedere. Ok. Sì, è un bambino! Infatti oggi a Milano c'è un casino tremendo, però vabbè. E guardate, guardate là. E stavamo andando, dobbiamo andare per quella direzione. C'è come mangiare, c'è come mangiare. Per quella direzione. E stavamo andando a... Vabbè, proprio quando inizio, iniziamo il vlog. Sì, è proprio lì. Ok. Vita! Ok! Dove urlare, sembriamo sempre questo teore. Urliamo perché stanno... Tagliando la legna. Sì. Stanno tagliando la legna. Sì, proprio oggi. Non potevamo farlo domani, che è un giorno consigliati. No, domani è la faccia dei morti. Eh, infatti, perché sono morti, no? È vero. E il salame. Dice, no signora, che se ne frega. Poi, marchi, 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 marchi. Marchi, 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 marchi. Ma quanto manca? Vai a vedere. Aspetta! Non è il panni. Eh, vabbè. Aspetta, vieni con me! Mamma, quanto manca? Mamma, quanto manca? Mancano due minuti. Due minuti, siamo al Ferdaliso. Andiamo a Ruzzano. Oh, scusa. Oh, mi ero fatta l'unica, però mi sono scordata di far l'unica. Guarda. Mi ero fatta così, guarda. Sì. Guarda, vediamo. Cioè, se ne sono andate. Scusate per le mie unghie, è bellissima. Sì, oggi andiamo a vedere anche la nuova collezione di Justin Bieber di Klairs. Sì, oggi andiamo a vedere anche la nuova collezione di Klairs. Sì, è bellissima. 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 Inizia dove erano sceli rossi, però fanno niente. Sì, rossi e roba, ma non c'erano da Klairs. Erano finiti. E questo è dal fatto E. La tinta, cosa? 3 ore. 3 ore. E qualcosa. 3 ore 50. O 90. Ah, boh. Io comunque... Il mio trucco è... Sì, e infatti si conclude là qua la prima parte del nostro... No! Ok, ci vediamo fra un po', ok? Ciao! Chiudi.